Che partita del cazzo, mamma mia che partita del cazzo, adesso Pioli se ti vai a dire che abbiamo vinto una partita importante, che abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra, io vengo a Milano e ti prendo a schiaffi. Questo era il minimo, forse voi non conoscete la parola minimo, vi do una mano io, allora Google, Google, allora, appena si avvia, minimo etimologia, allora, cari, cari iscritti e non, minimo deriva dal latino minimus, superlativo di minor minore. Minimo significato, minimo corrispondente ai valori o alle dimensioni più ridotte o riscontrabili in determinati ordini o campi. Questo è quello che avete fatto stasera, il minimo, perché se andiamo a vedere la partita, a lunghi tratti, sorprendentemente, avete fatto caccare anche stasera. Siete riusciti, nonostante che abbiamo vinto, nonostante che non si è preso gol, viva Dio, non si faceva una porta invelata contro la Cremonese a novembre, avete fatto una partita di merda lo stesso. Perché io non voglio differenziarmi dagli altri, non voglio sentirmi sto cazzo, però a me il Minam stasera non è piaciuto. Mi è piaciuto per certi versi, ma per altri versi non mi è piaciuto. Perché vogliamo analizzare una partita del Minam, bravi, analizzate 90 minuti. Nel primo tempo, mi dispiace dirlo, ma meritavamo di andare sotto. Perché in primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, sia davanti che dietro. Nel secondo tempo è andata bene che, ragazzi, facciamo gol in un modo solo. Palla sulla testa di Girù, se la coglie, la coglie, se non la coglie, non si fa gol. Metodo 2, piano B. Tirare da 580 metri, o fa il gol di Orighi col Sassuolo, o la palla, come stasera, per ben 5 volte finisce in curva. Mi volete dire che adottando due metodi di gol soli tu giochi una buona partita? No. No. Perché stasera il Torino ha sicuramente tale tre partite giocate con il Torino. Stasera è quella che il Torino, diciamo, ha giocato peggio. Perché comunque ti ha vinto 2-1 dominandoti laggiù. Ti ha sbattuto fuori in Coppa Italia. Se stasera il Torino perdeva, non è che si sarebbe disperato. E infatti si è visto. Cioè, secondo me, Torino ha giusto provato a passare in vantaggio nel primo tempo, ma nel secondo non mi dite che non ha provato a pareggiarla. Cioè, perché dai, ha proprio... Cioè, da quando ho visto il gol di Girù, che non ho esultato, ho detto vabbè. Qua. Penso e credo si venga. Prima che vengano i commenti, perché adesso che abbiamo vinto, ovviamente i tifosi delle altre squadre non verranno a commentare qua sotto. E sinceramente un po' mi mancano, perché mi mancano gli interisti che nonostante tutto, nonostante io non ti ferò mai interi in vita mia, spesso e volentieri li trovo più obiettivi di alcuni miei colleghi. Quindi, purtroppo è vero. Prima di chiamarmi tifoso occasionale piripi, piripa, pirisù, pirigiu, vi faccio una premessa al volo. La premessa è che una squadra che evito di snocciolarvi davanti a tutti i risultati dell'ultimo mese, perché l'ultima vittoria del Milan risale a un mese e sei giorni fa. Roma. Ho detto, è Vito, ma ve la snoccio l'uguale. Roma. Torino. Lecce. Supercoppa. Lazio. Sassuolo. Inter. Sette partite senza vincere. E non mi dite che con la Roma e con il Torino in Coppa Italia non potevi vincere. Vai. dopo sette partite se tu arrivi a giocare col Torino che già in casa ci dovevi vincere col Sassuolo. non lo hai fatto, vincere col Torino e neanche ci esulto. Perché chi vi critica non è un tifoso occasionale. Chi vi dà del coglione quando sei in campo non è il tifoso occasionale. anzi è il tifoso che vi ama ed è il tifoso che sa quello che potete fare, che conosce i vostri valori, che conosce anche i vostri limiti, ma sa dove potete arrivare. E se tu dopo sette partite dove non ne hai imbroccata mezza, arrivi e mi vinci 1-0 col Torino, è vero che viva il cortomuso e che chi vince ha ragione, ma io non sono contento. Io non sono contento. Perché è martedì. Che stasera avessimo vinto ho perso. Ci arrivo con una caga che voi non ne avete idea. Ripeto, che si fosse vinto o che si fosse perso. Ma manco se si vinceva 8-0 stasera, io ero tranquillo a martedì. Che poi ce l'ha andare a Monza. E vi ricordo a Monza cosa ci ha fatto la Juve, cosa ci ha fatto l'Inter col Monza. Lo ricordo. Poi dopo ci sarà l'Atalanta. Poi ci sarà l'Udinese, se non vado errato. Insomma, avvezzare i stronzi. Ma siccome si è rivelato stronzo il Sassuolo, che ne ha fatti 5, io non lo so quanto si possa stare tranquillo, soprattutto se vai a giocare un primo tempo così. Perché statistiche alla mano nel primo tempo recitavano 4 tiri a 1 per il Torino. Tu martedì devi andare a Londra, contro il Tottenham, contro Antonio Conte. E se tu sei sotto di 4 tiri a 1 nel primo tempo, io non voglio immaginare di quanti gol tu possa essere sotto a quel punto. Poi, chi vince e gode? Tre punti che mancavano dal 4 gennaio. Questa è una cosa che proprio mi vergogno a dire. I punti che mancavano il 4 gennaio. Guardo qua lo schermo del computer, vedo 10 febbraio. Mi piglia male. Mi piglia male perché io neanche nel 2015 ricordo un Milan così e mi dispiace dirlo perché il Milan del 2015 chi cazzo c'era in panchina? Pippo Inzaghi. Figure di merda di questa proporzione non le abbiamo fatte. Non le abbiamo fatte, ragazzi. Perché almeno si perdevano le partite. Perché si perdevano, siamo arrivati i decimi. Le abbiamo perse delle partite quell'anno. Ma mai umiliati come siamo stati umiliati ultimamente. Cioè, ragazzi, è una cosa che ha del gravissimo. Con Inzaghi non abbiamo preso 3 più 4 sono 7 e più 5 sono 12. Non ci sono presi 12 gol in tre partite con Pippo Inzaghi in panchina. Ma con Pioli è uno scritto sul petto, sì. Quindi se vi critico, se non esulto ai gol finché non vedo dei risultati costanti e positivi, mi dovete venire incontro. Mi dovete capire. È vostro dovere capirmi. Domani uscirà la live reaction. Mi dispiace perché dopo tutte queste sconfitte, staccarellata di sconfitte, staccarellata di views che ho fatto, staccarellata di soldi che ho fatto, torneremo domani con la live reaction dove arriverò a... se va bene, 200 views. Forse. Ma soprattutto sto per annunciarvi piccola isola felice di questo video che domani partirò per Viareggio e andrò al carnevale. E vorrei potervi portare un piccolo video sul carnevale di Viareggio. A caso. Perché tanto di scherzi e di burle non abbiamo passato abbastanza col Milan, andiamo anche al carnevale. Sempre Forse da Milan, domani mattina le 7 e la live reaction. Come sempre, Vali è tutto.